L'indice RT è calato, l'ultimo valore è stato dell'1,17. Significa che c'è una tendenza che avevamo preannunciato da due settimane di una curva epidemiologica che stava scendendo. Lo ha riferito il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, oggi ad Ancona, in occasione della seduta dell'Assemblea Legislativa. Mi aspetto, ha proseguito, in un ritorno in zona gialla che possa dare un respiro a tutte le attività che sono state penalizzate e che spero possano riaprire. Acquaroli ha poi ribadito la necessità di una maggiore chiarezza e coinvolgimento da parte del governo e sull'andamento del contagio ha aggiunto, la battaglia quotidiana ci deve vedere impegnati su più fronti. Il governatore ha parlato anche del Natale, la proposta a migliore è tenere regole ferre, ha dichiarato, ma le chiusure sono un danno importante e rappresentano l'altra faccia della pericolosità del virus, socio-sanitaria e socio-economica. Il problema, ha rimarcato, non sono né i ristoranti né le piste da sci, ma i comportamenti affiancati a queste attività. Non credo ci si contagi sciando o mangiando, ma ci si può contagiare prima o dopo. Se si rispettano le procedure si può cercare di abbattere il contagio, questo, ha precisato, non significa che si può fare tutto, ma nel rispetto delle norme anti-covid si possono tenere aperti i locali, evitando un dramma che potrebbe colpire tutte le attività produttive. Infine, il Presidente ha detto che farebbe il vaccino una volta disponibile, perché è considerato un elemento importante per poter cercare di tornare alla normalità.